Un po' è finzione, come si dice, lo sapete. Volti nuovi e riconferme per la giunta della CIA Pistoiese. L'organismo alla guida della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia, espresso dal Congresso che ha coinvolto oltre mille agricoltori e operatori del settore, si è ufficialmente insediato. Alla Presidenza, per il secondo mandato consecutivo, c'è Sandro Orlandini, al cui fianco nel ruolo di vice è stato confermato il vivaista Roberto Chiti. Il secondo vice è invece un nuovo ingresso. Si tratta di Stefano Fedi, agricoltore e olivicoltore di Uzzano. Il resto della giunta è composto per la metà da donne. Cinzia Cipriani, Daniela Vannelli, Nadia Bartoli e Federica Grossi. Gli altri membri sono Fabrizio Giuntoli, Alessandro Fantozzi, Marco Pagni e Luciano Aroni. Il 13 di febbraio c'è il congresso regionale. Quali problemi affronterete per primi? Per esempio, c'è una floricoltura sofferente. Che si fa? Floricoltura, intanto abbiamo cercato di allargare le maglie della nostra giunta perché abbiamo visto tanto una presenza anche di soci al nostro congresso estremamente interessante. Quasi mille persone votanti e anche la Val di Nevole ha risposto in massa a questo appuntamento del congresso. Quindi all'interno della nuova giunta ci saranno ben tre figure di floricoltori. Quindi anche insieme a loro cercheremo di affrontare queste problematiche che ci dicevi. Sicuramente il mercato dei fiori come primo punto sul quale lavorare. E fin da subito per capire che fine ha fatto anche il finanziamento che la regione, in bene o male, ha promesso al settore. Capire come si riaffronta questa questione. E cercare intanto appunto di rendere quella struttura rispondente alle normative anche di legge. Fare in modo che si possa proseguire con l'attività che ci viene svolta. Poter anche pubblicizzare questa nuova gestione della MEFIT che in ogni caso sembra stia dando delle opportunità al settore pur risolvendo quei problemi di fronte che cercavo di dire. Oltre a questo abbiamo dei rappresentanti anche di Flora Toscana all'interno della giunta. Anche lo stesso presidente Fabrizio Giuntoli e che appunto a loro volta ci presenteranno delle stanze comuni agli altri floricoltori diverse solo per lo sbocco sul mercato perché appunto loro hanno generalmente un mercato proprio.